Sì, credo di poter rispondere brevemente collegandomi ad alcune parole che ha citato il professor Maqbul prima, credo di poter rispondere anche all'imam Haqqad e all'ultimo interlocutore. A parte il fatto che il professor Maqbul ha citato un altro autore che a me è molto caro, cioè Ibn Khaldun, e Ibn Khaldun è stato effettivamente un pilastro dell'autocoscienza, dell'islam in una certa fase, ma nel suo discorso ha citato, Maqbul, molte parole di cui vorrei farne emergere due. Una è la parola tarichia, cioè tarich, storia, e qualcosa di più di storia, storicità, e l'altra la parola saccafa, cioè la parola cultura. Perché queste due parole? Perché queste due parole non sono parole di Gazzali, nel senso che non fanno parte del vocabolario di Gazzali. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'intervento di Maqbul ci ha dimostrato come l'avanzamento del sapere, la progressione del sapere, la complicazione delle scienze, abbia introdotto nuovi concetti che si sono tradotti in nuove terminologie, quindi che si sono tradotti in nuove parole che hanno un significato specifico all'interno del nostro mondo, e che non avevano lo stesso significato all'epoca di Gazzali. Quando Gazzali parla di Ictisad non intende l'economia, ma intende, come si usa oggi nell'arabo moderno, ma intende il giusto medio, la via mediana. E quindi c'è stato da questo punto di vista uno spostamento semantico. Credo questa osservazione di Dries McBull è molto interessante e mi serve per dire una parola riguardo a quanto notava Nader Akkad e anche l'ultimo interlocutore. Cioè Nader chiedeva cosa si può fare anche... Il problema è questo, cioè è l'insegnamento di una nuova terminologia, di una nuova concettualità che vada oltre a quelli che sono anche il peso della tradizione dell'Islam, che è molto forte, perché evidentemente l'Islam è una cultura, è una visione del mondo in cui la tradizione ha una grande importanza. E quindi cosa si può fare? Proprio insegnare le nuove categorie, i nuovi paradigmi, che riadattando anche magari i concetti antichi trovino però una nuova espressione, un nuovo significato all'interno delle necessità del mondo moderno. E questo è riguardo il problema dell'interpretazione, suscitato... voglio dire, la domanda è una domanda enorme, nel senso che facciamo un convegno evidentemente su questa risposta. Però c'è un misunderstanding, c'è un fraintendimento che corre nella conoscenza, diciamo, comune dell'Islam, cioè il fatto che l'Islam non conosca l'interpretazione. La maggior parte della gente comune, ma non solo, lo scrivono anche il Corriere della Sera o le Mond, scrivono che non esiste l'interpretazione del Corano. Allora, il problema è proprio quello della conoscenza per dimostrare che l'interpretazione del Corano ha una venerabile antichità, iniziando da Mucati, di M'sulaiman e arrivando fino a oggi. e aggiungendo il fatto che il problema della tarichia, cioè il problema della storicità, è uno dei problemi interpretativi di fatto a cui la nuova cultura musulmana si deve confrontare, che ha di fronte a sé, ma il problema della storicità non è soltanto, anzi, non è tanto un problema che riguarda la storicizzazione del testo, ma che è un problema che riguarda la collocazione del testo all'interno della storia, sia dal punto di vista dell'epoca del profeta e quindi evidentemente dell'esperienza profetica di Muhammad e della rivelazione del Corano in quel contesto, sia quanto potrebbe essere una, chiamiamola così, seconda rivelazione del Corano all'interno del mondo contemporaneo. Quindi la cosa importante è dire che uno, l'interpretazione c'è, due, l'interpretazione va avanti, tre, ci sono moltissime vie di interpretazione nuova. Voglio dire, i libri di Makbul, per esempio, io li ho trovati estremamente interessanti proprio perché introducono il concetto di falsa fa all'interno dell'interpretazione. E quindi da questo punto di vista c'è tutto un movimento di crescita, di effervescenza all'interno di questo tipo di discorso che dice che sì, quella cosa c'è, quell'interpretazione c'è, quel tentativo di interpretazione c'è. E allora proprio in quel senso, utilizzando termini nuovi, come tariha, come itisad, come insania, perché anche il termine umanesimo può essere considerato da calare all'interno della società contemporanea. e altri termini di questo genere possono servire a una tarbia, a un'educazione, a un talima, a un insegnamento che possono essere, credo, inshallah, utili alle nuove generazioni. Grazie, professore.